Sarò molto breve perché è l'ultimo intervento e vengo a parlarvi di quella forza, io la definisco una forza, quel potere, quel grosso potere che è insito in ognuno di noi ed è il potere dei nostri sistemi emotivi. Infatti sebbene comunque l'attenzione della scienza negli ultimi decenni sia sempre stata più orientata, più sul versante comunque degli aspetti cognitivi che emotivi, negli ultimi anni sono stati fatti passi da gigante che comunque ci mostrano delle cose straordinarie e stanno diventando comunque i più entesiasmanti della ricerca. Infatti le scoperte scientifiche degli ultimi decenni pian piano hanno messo in discussione il limite frammentario dell'interpretazione dell'essere umano portando comunque le scienze biologiche, le scienze mediche, psicologiche e oggi abbiamo ascoltato anche fisiche a confrontarsi con nuovi paradigmi che manifestano comunque la stretta interrelazione tra piano biologico e piano emotivo. E come appunto ci ha detto prima la dottoressa Poli, le espressioni, se ci pensiamo per un attimo, geni buoni e geni cattivi, sono ingannevoli e incrementano oggigiorno un grosso equivoco, quello della biologia come credenza. Al contrario i nostri geni sono reattivi, creativi, adattativi perché rispondono a tutto ciò che noi pensiamo, mangiamo, facciamo ma soprattutto sentiamo e questo ci spalanca di fronte ad un nuovo orizzonte della cura in cui le emozioni vengono messe al centro, diventano il potere più grande che noi abbiamo nel determinare tutti i cicli all'interno del nostro organismo. Infatti l'organismo umano è una complessa rete di informazioni, di informazioni biologiche, di informazioni sottili, di informazioni energetiche, di sistemi e sottosistemi che dialogano e comunicano in cui gli aspetti emotivi, cognitivi e soprattutto piani fisiologici sono strettamente interrelati. Infatti come avevano comunque compreso autori del calibro di Damasio e di Ledoux, ancor prima addirittura Darwin, le emozioni sono dei fatti fisici ovvero delle risposte ad eventi sia interni ed esterni che non soltanto comunque guidano il nostro comportamento ma soprattutto l'intera fisiologia. Infatti Damasio se ci pensiamo è chiaro quando afferma l'anima respira attraverso il corpo, quindi la sofferenza che muova comunque dalla pelle o da un'immagine mentale avviene nella nostra carne, avviene nel nostro corpo. Infatti per Damasio emozioni, sentimenti e coscienza sono inquadrati all'interno comunque di una visione integrata del soggetto e di un approccio che vede il corpo come teatro della mente, quindi un organismo sempre in fieri, sempre nell'atto di compiersi, sempre nella ricerca costante di un adeguato equilibrio omeostatico che tende verso il benessere. Infatti per questo straordinario neurologo statunitense le emozioni non sono un qualcosa che è disgiunto dai nostri processi di pensiero ma al contrario esse sono al servizio della cognizione. Infatti egli ci ricorda come noi, e questo molto spesso a noi sfugge, in ogni attimo della nostra esistenza proviamo emozioni, siamo emozioni, anche se in maniera velata, anche se in maniera non manifesta e non sempre percepibile, noi siamo in uno stato emotivo. Questo stato emotivo però molto spesso queste emozioni viaggiano sotto soglia, quindi noi non le percepiamo completamente, non le manifestiamo, però sono il motore che sottende la nostra esistenza, che ci dà vita. Senza emozioni noi non saremo qui, nel qui e ora della nostra esistenza materiale. E questo a spiegarcelo bene è un altro grande ricercatore, quale è l'Edu, ci spiega il perché accade questo, perché le emozioni molto spesso viaggiano sotto soglia. Infatti egli ci dice che i processi emotivi operano ad una velocità molto superiore rispetto ai pensieri e bypassano il ragionamento lineare della mente che viene di solito in seconda battuta. Infatti questo accade perché? Perché le connessioni comunque che corrono dalle aree emotive, quindi dal sistema limbico, dal circuito limbico del cervello alle aree del pensiero, ovvero i centri cerebrali superiori, sono molto più numerose e dense rispetto a quelle che decorrono al contrario. Ed è proprio questa profonda simmetria che spiega il potere appunto dei nostri sentimenti nell'influenzare il funzionamento cognitivo, qual è appunto la percezione, la memoria o il ragionamento stesso, quindi tutte le funzioni cognitive. E questo è straordinario perché comunque ci apre uno scenario di senso nuovo che ci fa vedere quanto il potere dei nostri sentimenti siano essenziali, non soltanto per guidare il nostro comportamento, ma l'intero organismo, l'intera fisiologia nel determinare nel bene e nel male il nostro stato di salute e di malessere. Molto spesso i neurofisiologi parlano appunto di un fenomeno particolare che si chiama appunto shout down corticale, ovvero molto spesso il nostro sistema emotivo essendo molto più rapido nella risposta comunque di fronte ad uno stimolo fa sì che praticamente la corteccia si scolleghi, quindi l'informazione viene dopo, però questo implica che comunque ci sia tutta una scarica di sostanze chimiche all'interno del nostro corpo che riescono comunque a confermare o disconfermare la vita e questo appunto ci dà un senso nuovo rispetto alle cose perché c'è la causa di un vero e proprio sbilanciamento tra sistema emotivo e sistema cognitivo e quando si è visto oggi sappiamo che disregolazioni a causa di questi due sistemi portano comunque nell'intera fisiologia delle manifestazioni evidenti, danno luogo comunque a una chimica che disconferma la vita e questo è molto importante, di evidenza ne abbiamo tante, questo per citarvi, questo che vedevate appunto nella slide è uno degli studi condotti appunto dall'Art Mart della California di cui ha parlato prima la dottoressa Poli dove possiamo vedere come l'effetto di differenti tipi di emozioni cambia la modulazione dei ritmi all'interno del nostro cuore infatti si è visto, i ricercatori hanno praticamente notato che emozioni negative, quali appunto frustrazione, irritazione, rabbia creano proprio delle onde all'interno comunque dei ritmi cardiaci molto disordinate, non omogenee con rilascio di determinate sostanze e un impatto molto forte sui ritmi comunque del nostro cuore i quali comunque vanno a influenzare l'intera fisiologia nel bene e nel male al contrario si è visto invece che emozioni positive appunto come la cura, l'accoglienza generano invece comunque delle onde molto armoniche, uno stato coerente e questa modalità è stata appunto definita dai ricercatori coerenza psicofisiologica e si è visto che in questo determinato stato, quando una persona si trova in questo determinato stato ovvero genera e soprattutto prova emozioni positive e continuative, cambia tutta la sua fisiologia diventa tutto più armonico, si genera un campo molto grande a livello cardiaco che non soltanto comunque mette ordine all'interno del flusso e dei ritmi ma trascina praticamente tutti i sistemi fisiologici verso una maggiore attivazione del sistema parasimpatico ovvero quella branca del sistema nervoso che induce calma e tranquillità all'interno dell'organismo quindi oggi noi abbiamo sempre più evidenze rispetto a questo tanto che possiamo dire effettivamente che le emozioni siano oggi riconosciute dalle neuroscienze come i fattori fondamentali che presiedono comunque la salute e la malattia e se sono praticamente il ponte, il trade union tra psiche e corpo ovvero quegli interruttori capaci comunque di orchestrare quei processi che molto spesso ci sembrano misteriosi che vanno dallo psiche al soma e viceversa che cos'è l'emozione? fondamentalmente l'emozione significa sentire, fare esperienza nel qui e ora di ciò che accade dentro di noi, dentro e fuori di noi di un vissuto che si esprime attraverso il percepito corporeo e dell'emozione che emerge in virtù della relazione con il mondo ad oggi conosciamo diversi tipi di emozionarsi infatti come ci è stato detto prima ci sono comunque degli studiosi molto importanti tra cui Ekman e Izzard che hanno appunto mappato e differenziato i diversi tipi di emozioni essi li hanno suddivise in emozioni primarie dette anche basiche o universali che sono appunto quelle che conosciamo tutti, la rabbia, il disprezzo, la felicità, il disgusto da quelle secondarie che sono emozioni un po' più diverse, emozioni un po' più cognitive quindi l'orgoglio, il senso di colpa però la differenza sostanziale è questa che le emozioni primarie ovvero quelle basiche si differenziano da quelle secondarie per avere degli specifici pattern di attivazione corporea rispetto alle seconde che seppur più velate quindi non implicano dei cambiamenti corporei evidenti comunque hanno un impatto molto evidente nelle dinamiche, nei cambiamenti delle dinamiche comunque cerebrali questo che significa? che l'emozione è cambiamento ecco perché è una forza il cambiamento lo contiene anche nell'etimo stesso della parola cambiamento emoting emotion, quindi muoversi da un determinato contesto per aprirsi comunque ad una gamma di possibilità più ampie di essere al mondo e un cambiamento soprattutto di frequenza d'onda che fino a quel momento aveva intonato la nostra intera fisiologia nel bene e nel male infatti come ci ricorda la dottoressa Poli nel suo libro Anatomia della guarigione ogni volta che uno stato emotivo si manifesta esso impatta anche senza rendercene conto sul sistema cerebrale traducendosi comunque in un codice somatico che resta nella memoria dei tessuti e anche delle cellule e questo emozionarsi appunto non sempre si radica nelle parole ma nella memoria emozionale del corpo stesso che ne conserva le tracce come ci ricorda Arciero, il professor Arciero quindi ogni emozione non può essere non incarnata noi siamo degli esseri emotivamente situati ad ogni accadere della nostra esistenza senza emozione noi non saremmo vita e oggi sappiamo quanto queste emozioni siano importanti per noi quanto comunque l'emozione parli di noi noi nel momento in cui siamo arrabbiati se ci pensate per un attimo tutto il nostro corpo è intonato in questa vibrazione in questa emozione gli occhi si dilatano e iniziano a riempirsi di sangue oppure i muscoli della schiena si contraggono gli arti superiori abbiamo visto che comunque si attivano quindi è tutto il nostro corpo a parlare delle emozioni anche se molto spesso queste non sono evidenti infatti come ci ricorda il neurofilosofo Prince non sempre uno stato emotivo viene percepito perché rimane sotto soglia ovvero non attraversa, non diventa il fulcro della nostra attenzione se la nostra attenzione è rivolta chiaramente ad altro noi non riusciamo a percepire uno stato emotivo e questo stato emotivo rimane latente quindi rimane sotto soglia per questo oggi possiamo parlare di emozioni inconsce quindi tornando alla rabbia nel momento in cui noi siamo arrabbiati tutto il nostro corpo è permeato dalla rabbia poi quella rabbia cosa succede? potrà venire fuori attraverso un urlo potrà nidarsi nella psiche dando luogo comunque a un agito aggressivo o ancora come abbiamo avuto modo di vedere prima potrà comunque sedimentarsi nello stomaco tanto da ulcerarlo oppure potrà manifestarsi attraverso la pelle noi siamo fondamentalmente il teatro della nostra vita emotiva come ci diceva Damasio un teatro che parla, un corpo che parla in ogni momento, in ogni istante dell'esperienza che noi viviamo da sempre tutto comunque si scrive nella nostra carne ogni esperienza che noi compiamo sin dai primi mesi di gestazione un bambino come appunto abbiamo detto sin oggi come incontra il mondo la sua apertura ontologica al mondo, all'altro non avviene di certo attraverso il linguaggio ma avviene attraverso la corporeità e quello è il primo modo che un bambino ha per strutturare una trama di significati con l'esterno e questo è il primo modo che un bambino ha per poi passare successivamente a un senso condiviso a uno stare con l'altro prima ancora che passare appunto al linguaggio e poi al pensiero, alla razio e in questo corpo quindi tutto si sedimenta sin dalle prime fasi abbiamo visto che bambini che comunque hanno avuto esperienze negative nella prima infanzia raccontano la loro storia attraverso il corpo e affinché comunque quell'esperienza emotiva del bambino venga accolto, rifiutata il cervello si struttura di conseguenza ci sono una moltitudine di studi che oggi ci mostrano che nel momento in cui i bambini vivono esperienze comunque fortemente negative e disarmoniche l'amigdala impara comunque ad aspettarsi l'amigdala che sappiamo che è un centro chiave nella modulazione delle risposte comportamentali immunitarie ed è comunque tutta di una serie di risposte comportamentali imparerà comunque ad aspettarsi disarmonia dando luogo a un'attivazione non soltanto cerebrale ma che comunque confermerà o disconfermerà quello che il bambino ha vissuto ma dando, iperconoscendo, comunque una serie di emozioni basiche intonate su quella frequenza emotiva che ha vissuto dando luogo poi a una determinata fisiologia nel proprio corpo Damasio parla Eckman, scusatemi, parla proprio di un bagno somato sensoriale della prima infanzia in cui il bambino viene cullato facendo sì che comunque sviluppi determinate strutture a discapito di altre ecco perché noi oggi possiamo dire concretamente che la nostra biografia disegna momento per momento la nostra biologia le nostre cellule i nostri organi i nostri tessuti e soprattutto oggi sappiamo che quelle memorie che si mantengono dentro di noi che sono delle vere e proprie memorie implicite guidano profondamente i nostri comportamenti infatti si è visto che comunque ci sono determinate emozioni traumatiche che corrispondono a movimenti impediti ad azioni interrotte a quelle che appunto Damasio chiama memoria e senso motori ovvero dei correlati sensoriali e motori dell'esperienza esperienze traumatiche alterano appunto la capacità di autoregolazione del corpo a causa dei cambiamenti dei livelli sottocorticali del nostro cervello quindi del sistema emotivo soprattutto come ci ricorda Van Der Kork in uno dei suoi libri più belli Il corpo accusa il colpo le tracce del trauma impresse nella memoria sono conservate come stati di attivazione fisica molto più che psichica e questo ci dovrebbe dire molto perché noi siamo sì emozione incarnata ma siamo anche una storia di emozioni che per momento dopo momento si congiungono nell'esperienza presente infatti noi molto spesso reagiamo alle situazioni contingenti come se fossero esperienze del passato ripetizioni del passato e il trauma che cos'è in fondo? è un qualcosa che ci impedisce di vivere nel presente ecco perché Van Der Kork ci ricorda ancora che il trauma le tracce del trauma che si sono sedimentate dentro di noi possono essere ben visibili nel nostro corpo attraverso la postura attraverso comunque i nostri volti attraverso le espressioni le posizioni che noi assumiamo infatti molto spesso il trauma viene definito come un qualcosa che non ci fa stare ad agio quindi a casa nel nostro corpo o ancora come ci ricorda il dottor Peter Lewin i ricordi traumatici non risiedono nell'evento ma si iscrivono nella fisiologia del corpo e ancora di più qua abbiamo la prova che comunque la nostra biologia quindi la nostra biografia la nostra esperienza di vita diviene momento per momento la nostra biologia traccia dei solchi nella nostra carne oggi sappiamo sempre di più ne abbiamo parlato largamente non mi voglio dilungare su questo che le emozioni sono fatti biochimici che si traducono in cascate di messaggeri molecolari che guidano l'intera fisiologia nel bene e nel male quindi noi vediamo come le emozioni siano importantissime perché queste non soltanto noi non le vediamo quindi siano energie sottilissime oggi questo è a supporto sempre di più della fisica dei quanti quanto siano dei fenomeni concreti che guidano la fisiologia infatti in base all'emozione che noi sperimentiamo il nostro cervello modula i vari ormoni che fanno dialogare comunque il sistema endocrino immunitario e nervoso tanto che oggi appunto parliamo di network psicosoma oppure potete vedere nella slide come una moltitudine di strutture sia corticali sia sottocorticali sono comunque implicate quindi si attivano nel momento in cui noi proviamo un'emozione questo ci dà un po' un senso diverso perché quindi se le emozioni sono davvero così potenti e se davvero le emozioni quindi sono a metà sono quei processi sospesi tra psiche e corpo allora significa pure che la medicina e la psicologia stessa non possono più ignorarne il ruolo nella patogenesi di tutti i disturbi sia psicologici che somatici implementando praticamente le tecniche di lavoro emozionale in grado di agire appunto sul sistema limbico quindi sul sistema sottocorticale quindi il sistema emotivo quindi oggi possiamo arrivare al dunque una psicologia e una medicina che siano davvero all'avanguardia e che sempre più cercano e tentano di capire la verità di come funzioniamo e soprattutto oggi che disponiamo di tutte queste conoscenze che ci vengono dal campo della neurofisiologia dagli studi sull'attaccamento dalle neuroscienze noi non possiamo più ignorare il ruolo dei fattori emotivi ma abbiamo conoscenze sempre più marcate su cosa accade a livello sottile a livello anche manifesto nel nostro corpo nella chimica del nostro corpo quindi oggi una psicologia e una medicina che siano davvero al passo con i tempi sempre più devono integrarsi devono comunque intessere delle trame devono andare oltre l'antica comunque anche di atriba che le ha sempre caratterizzate che le vedeva l'una contro l'altra strutturando comunque una rete di significati più ampi anche sul soggetto umano il quale diventa una sorgente di senso e di conoscenza grandissima il quale diventa non più un soggetto chiuso che deve essere studiato diviso in pezzi e comunque considerato come una macchina ma un soggetto agente che in sé contiene tutto il potenziale per poter guarire e questo è grandioso perché comunque ci porta verso dei nuovi passi che noi possiamo fare verso nuove scoperte soprattutto partendo anche da aspetti che noi prima non pensavamo di utilizzare degli strumenti conoscitivi diversi soprattutto quando noi interagiamo con la persona e infatti lavorando quindi con le emozioni noi possiamo scoprire che queste diventano essenzialmente un fattore enorme prezioso per poterci aprire adeguatamente alla comprensione della complessità che ci rende così unici e particolari e noi oggi non possiamo non possiamo più pensare che comunque l'uomo sia suddiviso in parti l'uomo è un tutto e noi come professionisti dobbiamo iniziare a guardare a questo tutto con la sua storia con la sua esperienza di vita con i suoi vissuti non siamo macchine ma siamo esseri umani e noi ci prendiamo cura chiaramente di questo tutto integrato e lo possiamo fare anche attraverso comunque tecniche che passano attraverso il corpo attraverso il sentire il corpo come abbiamo detto finora come le mie colleghe ci hanno fatto vedere la ISTDP è una per noi delle tecniche fondamentali del nostro lavoro presso l'FFP Group la ISTDP e qui non mi dilungo perché è già stato detto molto posso dirvi soltanto che comunque la ricerca quindi ha permesso di individuare i principali patterns di scarico emozionale che comunque sono alla base di diversi disturbi questa tecnica quindi ci permette di a noi comunque come psicoterapeuti di andare a curare persone che non primariamente vengono da noi con un disturbo soltanto di tipo psicologico psichiatrico ma anche con disturbi di tipo somatico e questo appunto ci aiuta molto a riscrivere anche le soluzioni che noi possiamo dare alle persone in termini anche di accoglienza noi all'interno del centro dell'FP Group il cui intento appunto è quello di fornire un approccio serio scientificamente validato e altamente integrato a chi appunto accorre cerchiamo di andare a disegnare un percorso idoneo alla persona tingendo a tutte le risorse che il centro possiede che spaziano appunto dall'oncologia integrata alla psiquiatria integrata o comunque ad altre tecniche a tutte le forme di psicoterapia anche se dove il nocciolo appunto è rappresentato dall'ISDP quindi terapie centrate sulle emozioni anche se alcune più sul versante post-traumatico ed altre più relazionali in ogni caso da poco tempo possediamo anche comunque una formula che si chiama block therapy che in cui c'è un inter questa è già stata comunque ampiamente utilizzata negli Stati Uniti e prevede che in una stessa sessione ci siano praticamente molteplici professionisti che operando su più fronti contemporaneamente emotivo somatico e psichico nel corso della stessa sessione azionano un lavoro intensivo di trasformazione profonda nella persona infatti lavorando comunque con più persone con più specialisti contemporaneamente la cosa bella è stata vedere che le persone i risultati sono stati molto promettenti e le persone anche chi comunque veniva da percorsi in cui non aveva trovato da diversi professionisti in cui non aveva trovato giovamento finalmente hanno potuto alleviare i propri sintomi e poter trovare appunto benessere soprattutto perché il nucleo centrale è rappresentato appunto dall'ISTDP e si è visto come questa ISTDP questa metodologia di lavoro è in grado comunque di indurre a livello cerebrale il riplasmarsi dei circuiti limbici nonché praticamente l'attivazione del tono vagale che abbiamo visto che è il principale effettore del sistema parasimpatico e che comunque contrasta appunto gli effetti del sistema simpatico soprattutto si è visto che l'ISTDP quindi riesce ad attivare il tono il sistema vagoventrale e ampliare quella finestra che è stata definita da Siegel la finestra di tolleranza dell'attivazione emotiva e questo si verifica soprattutto quando avviene questa interazione tra paziente e terapeuta nella quale appunto il terapeuta in maniera interattiva aiuta la persona ad entrare in contatto con i propri sentimenti con la voce della propria anima con quello che sente nel qui e ora appunto nel proprio corpo e oltre dato che l'ISTDP rappresenta per noi comunque una tecnica centrale possiamo dire che comunque noi possiamo utilizzare molteplici tecniche che abbiamo appunto visto di cui abbiamo parlato anche precedentemente le quali vanno tutte a supporto dell'anima della persona e oggi sono tutte validate scientificamente si tratta appunto di tecniche psicocorporee di mindfulness tecniche di perdono tecniche di coerenza cardiaca e quindi in ogni caso per concludere perché non vi voglio portare via a tempo tutto questo sì tutto questo ci serve per ampliare i nostri orizzonti quindi la chiave è nell'integrazione e oggi sempre più noi non possiamo più esulare da quegli aspetti spirituali del nostro essere uomini che sono tutte quelle domande quei dubbi che la persona comunque può avere da questa nuova prospettiva quindi è impossibile non notare che quando noi ci mettiamo effettivamente di fronte all'altro facendo sì che il vissuto del paziente tocchi il nostro quindi ci apriamo completamente operiamo una grande trasformazione nella persona la aiutiamo a trovare se stesso piuttosto e la propria forza piuttosto che utilizzare solo la nostra per guarire e dato che l'essenza comunque dell'esserci sta nell'essere insieme come ci ricorda Heidegger l'aver cura non è togliere all'altro la centralità tanto da mettersi al suo posto ma al contrario l'aver cura autentico presuppone l'altro con attenzione aprendogli sia lo scenario di comprensione di osservazione e al contempo gli spazi di libertà per lasciarlo essere ciò che è quindi la cura autentica inizia quando il medico o comunque il professionista ha l'amore per il paziente ed insegna soprattutto alla persona ad avere l'amore per sé ed oggi possiamo dire che la più grande integrazione che la scienza ci porta a fare è quella appunto di integrare l'amore l'amore che non va visto in senso metaforico o romantico al contrario l'amore è un aspetto così umano ma è quella forza che sostiene ed è al servizio della vita è una cosa meravigliosa una molecola meravigliosa come ci ricorda la neuroscienziata Donatella Marazziti nei suoi studi nelle sue indagini sulla natura dell'amore l'amore che dà il via al rilascio di tutta una serie di sostanze quindi è una chimica pro alla vita una chimica che genera vita questo fa l'amore quindi la scienza incontra l'amore sempre di più l'amore che è un immunostimolatore e questo quel seme enorme e soprattutto illuminante contenuto in quella celebre frase qui chiudo che appunto disse secoli or sono platone quando l'anima si ammala essa consume il corpo e quindi noi come professionisti della salute ma soprattutto della cura dobbiamo sempre andare più incontro a questa integrazione e da questo non possiamo più esimerci grazie 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 a tutti